Una grande festa, quella per la piccola Noemi, la bimba di guardia grele affetta da atrofia muscolare spinale, l'asma 1, che ha appena compiuto 9 anni. In tanti ieri è all'auditorium fleiano di Pescara, uniti per festeggiare la bimba, che assieme alla sua famiglia è diventata un simbolo per tutte quelle famiglie che hanno in casa cari affetti da patologie simili. Intanto il papà di Noemi, Andrea Cerretta, pone un nuovo obiettivo per il progetto Noemi Ollus, cioè la creazione a Pescara della prima terapia intensiva per bambini affetti da malattie gravi e rare. All'auditorium fleiano, per spegnere le nove candeline della bimba, si sono ritrovati tra gli altri l'assessore regionale Verì, sindaci di Pescara e di guardia grele Masci e di Prinzio, il primo cittadino di Pennapi e di Monte di Placido, l'assessore comunale di Chieti Pantalone. Sul palco alcuni volti e nomi noti abruzzesi dello spettacolo a partire da Anduccio con i messaggi di Guanciale, Cirilli e Ruffini. A condurre la manifestazione il presentatore e attore Federico Perrotta, affiancato da Valentina Olla, c'erano anche i rappresentanti del Chivanis, del Rotaract, i vigili di Montesilvano con il comandante Casale, i giornalisti Lorenzo Colantonio e Paolo Castignani. Per le testate giornalistiche, il centro e il rete 8 molto vicini al progetto da sempre, per questo ringraziate con una targa. Un pomeriggio di festa che ha consentito di raccogliere 3.000 euro da destinare al progetto Noemi Ollus per assistere oltre 100 famiglie con figli affetti da malattie gravi e rare. E visto che la piccola Noemi è particolarmente dotata nel disegno, ne è stato messo all'asta uno ad aggiudicarselo Levino di Placido. Tra i momenti più belli, quello che ha visto protagonista Noemi suonare da casa al pianoforte elettronico, alla musica de' La Bella e la Bestia, una favola agli etofine come la piccola merita.